Fate evento su internet, non mi interessa, profilo facebook, like, cazzo quanto è figo, mi scrive, feeling, scambio foto private, cazzata, è un nome troppo grande per me, le foto sul web, mi sparisce, cosa faccio, quale soluzione, nessuno. Vai per il shopping, provi il completino intimo che cercavi da tanto, lo provi, sei una figa, non vedi l'ora che il tuo ragazzo te lo veda indosso, non puoi aspettare fino a stasera, ti fa una foto, gliela mandi. Oh raga, beccatevi la mia nuova tipa, minchia, viene anche a me, oh però non farla girare, si si tranquillo. Quanto sei social, quanto mostri al mondo di te, foto, video, post e gli amici, quelli veri, fisici, sei sicuro di averli o vivi solo su facebook? Siamo noi a crearci il nostro mondo, gli amici, le relazioni, il rispetto e la nostra reputazione, sii più reale e non solo virtuale. Ti basta un click per metterti a nudo. E se mi vedesse così Marco? E se al pub il barista mi riconoscesse? E cosa penserebbe di me il professor Rossi? E se voglio comprare una mela, come mi guarderà il fruttivendolo? Sarai davvero figa come Rihanna. E Don Claudio? E mia madre? E il mondo! E se mi vedesse così.